Nella vita non si può avere che è nostalgia, anche di ciò che non fu mai, soprattutto di ciò che non fu mai. Cos'è la vita? È nostalgia di quanto non fu. È stupido pensare che la nostalgia si riferisca a un passato. Non è vero. La nostalgia si riferisce a qualcosa che non fu mai. E cos'è questa nostalgia? La vita. È come realizzare un sogno. Allora Viglia de Lilladam direbbe perché realizzarli, i sogni sono così belli. Allora Viglia